Cortese, già 9 punti per lui Canestro e fallo per Molinaro, la schiacciata sulla quale Cinsarini Pillo a metà campo si prova sulla Sirena Grande palla di Michael Terras Chapeau, grande canestro da 3 di Cortese Bravo anche Ratti Meno sotto canestro Molinaro, Cortese, andrà lui al tiro Da Ferrara, gran canestro ora, dalla lunga distanza, da parte di Pan Grazie a tutti